Ma che bontà l'insalata russa con il tonno, anche semplicemente spalmata su una fetta di pane. Pulite la carota e poi tagliatela a piccoli pezzi. Sbucciate anche la patata e tagliatela a piccoli pezzi. Sgranate i piselli se usate quelli freschi oppure potete usare quelli surgelati. Versate in una pentola dell'acqua. Quando bolle, salatela e aggiungete le verdure. Fatele cuocere per 10 minuti. Poi scolatele, versatele in una terrina e fatele raffreddare. Quando le verdure saranno fredde, aggiungete la maionese e mescolate in modo da ottenere un'insalata russa bella omogenea. Eliminate il nocciolo dalle olive e tagliatele a rondelle. Unitele poi all'insalata russa. Aggiungete anche il tonno. Mescolate bene in modo da ottenere un composto omogeneo. Se desiderate una salsa più liscia, potete usare un frullatore. Ora è pronta, ma vi consiglio di conservarla in frigorifero per almeno 30 minuti. Buona, facile e perfetta per ogni occasione. Grazie. Grazie.